Il nuovo Papa Francesco ha immediatamente raccolto consensi dalla gente dopo le prime parole di grande umanità e vicinanza ai deboli. Il Papa, già dalle prime ore dalla nomina, si è contraddistinto per le scelte di mitezza e sobrietà. Oggi abbiamo sentito le reazioni della gente a questo nuovo Papa per la prima volta nella storia di origine sudamericana. I milanesi hanno espresso grande stima per il nuovo pontefice dalle origini semplici, stima e gioia confermata anche dal sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Mentre sta per chiudersi la partita regionale sulla composizione della giunta, si organizzano le file dell'opposizione. Da Umberto Ambrosoli le priorità da perseguire senza attese, legate al lavoro e all'occupazione. Domenica autoferme per la domenica a spasso indetta dal comune di Milano. Adesioni solo dal comune di Cormano si sfilano invece le altre amministrazioni. La certezza è che la prima domenica senza auto dell'anno sarà guastata da pioggia e freddo pungente. Buona serata, ben trovati a quest'edizione della sera del TGN in apertura. L'avete sentito dal nostro sommario un ritratto di quello che da ieri la Chiesa di Roma ha scelto come nuovo vescovo e nuovo Papa. Papa è Francesco I, gesuita, argentino, 76enne, un pontefice forse non atteso ma immediatamente amato per le sue parole di grande umanità, fratellanza e vicinanza ai più poveri e deboli. Anna Maria Bracini. Fratelli e sorelle, buonasera. Il primo Francesco nella storia dei papi, o meglio Francesco I, che è anche il primo latinoamericano che sale al soglio di Pietro e ancora il primo gesuita che diviene pontefice. Anche se lui, Jorge Mario Bergoglio, classe 1936, argentino, arcivescovo della sua città di nascita, Buenos Aires, del 1998, nello stesso anno in cui è diventato anche cardinale, Papa non si autodefinisce mai. Dice, sono il vescovo di Roma. Trascorsa quell'ora è più che pare interminabile, tra la fumata bianca che arriva alle 19.06 e l'annuncio dell'eletto, per la cronaca sono le 20.22, le prime parole di Francesco sono infatti queste. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Emozione tra la folla, più di 100.000 le persone in festa, in piazza San Pietro e fino a via della conciliazione. Ma emozione anche nella voce del neopontefice. Papa di fratellanza e amore, già lo chiamano. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che preside nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. E poi quella preghiera silenziosa, che rende appieno l'unità del pastore, della Chiesa, che è cattolica, universale. Un papa che ama il calcio, che è nato nel quartiere del Tango, che ha scelto di abitare in un modesto appartamento e non nell'episcopio, che viaggia in metropolitana. Uomo tra gli uomini, unito al suo popolo. Da oggi inizia davvero, forse, un nuovo cammino. Quando edifichiamo senza la croce, siamo mondani, siamo vescovi, preti, tutti i cardinali, i papi, tutti e tutti, ma non discipolle il Signore. E anche nella diocesi di Milano grande soddisfazione per l'elezione del nuovo pontefice Francesco. Questo è il commento del vicario generale della diocesi, Mario Delpini. La scelta di Orghe Mario Bergoglio come nuovo pontefice, voluto dai cardinali all'interno della Cappella Sistina, entusiasma anche la diocesi di Milano. Le prime parole del nuovo papa appaiono fin da subito inusuali, una piccola rivoluzione nella tradizione. La richiesta al popolo di pregare per lui, unito a un carisma fuori dal comune, che ha fatto di Bergoglio un arcivescovo molto amato nella città di Buenos Aires, dove ha trascorso anni accanto ai poveri e alla miseria delle baraccopoli. Parole e piccoli gesti che hanno colpito anche Mario Delpini, vicario generale della diocesi di Milano. Il suo carattere inaspettato è stato come il segno di una giovinezza della Chiesa, di una creatività dei cardinali, di una libertà dalle previsioni che stupisce e incoraggia ad avere fiducia nel futuro che ci aspetta. Anche la scelta del nome Francesco, un nome che ha un programma, un manifesto rivolto all'attenzione verso il sociale, i poveri non può che colpire. Un nome che dicesse l'originalità di una Chiesa che cammina verso il suo futuro, con la libertà, la semplicità di Francesco. Infine il vicario generale della diocesi Delpini tiene a sottolineare che nonostante molti commentatori abbiano visto nella scelta di Bergoglio una volontà di apertura dei cardinali verso le popolazioni dell'America Latina, il nuovo pontefice saprà parlare anche ai fedeli del vecchio continente. È ovvio che è scritto così, uno che viene dal Sud America apre a quel mondo lì, però io credo che un papa, come tutti i papi precedenti, una volta arrivati a essere vescovo di Roma, hanno cominciato una storia nuova, ecco, quindi quello che hanno alle spalle non è stato una sorta di condizionamento che li ha trattenuti dentro il loro mondo di origine, ma una ricchezza che hanno messo a disposizione di tutti, quindi credo sia apertura in Sud America, ma questo ce l'hanno avuto tutti i papi precedenti, e piuttosto così, ecco, il segno che la chiesa è sempre quella e viene da tutte le parti e si trova sempre in unità col vescovo di Roma. Sull'elezione del papa Bergoglio abbiamo sentito l'opinione sia del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che di molti milanesi che hanno voluto dire la loro. Mi è piaciuto moltissimo perché mi è sembrato, mi è apparso molto semplice, molto vicino alle persone e in genere in questi casi uno si può aspettare un grande discorso di teologia, invece ha parlato col cuore, ha parlato con l'entusiasmo, col sorriso ed è importante secondo me anche che venga da un paese emergente, povero e quindi che vive quotidianamente il rapporto con chi ha più bisogno. Visibilmente soddisfatto e forse anche emozionato il sindaco di Milano Giuliano Pisapia per l'elezione a sommo pontefice di Jorge Mario Bertoglio. Il nuovo papa, venuto dall'Argentina, da un paese alla fine del mondo, come ha detto lui stesso, trova consensi da parte di tantissimi milanesi che abbiamo sentito in Piazza Duomo. Sono molto contento per il fatto che si è dimostrato molto semplice, che sa parlare a tutti e mi è piaciuto anche il nome che ha scelto, Francesco, proprio come San Francesco d'Assisi suppongo che si riferisca e quindi suppongo che sia il papa di tutti, il papa di tutta la gente, di tutto il mondo, di tutte le persone. Dalle prime parole? Sì, dalla sua semplicità, però mi ha fatto trasparire un uomo di grande intelligenza, di forza, forse è quello che ci voleva. Ci voleva un uomo di questo tipo? Sì, un gesuita. L'impressione che ha dato è un giusto mix di cultura, di grandezza e di umiltà. Un uomo che sta con la gente, che ha la capacità di guidare la gente. Beh, mi ha colpito molto la semplicità, il modo diretto con cui si è rivolto ai fedeli e poi ovviamente sicuramente il fatto che sia un non europeo è il segno di una chiesa che è universale e che è viva soprattutto anche al di fuori dell'Italia e dell'Europa. Ha detto che la banca vaticana è troppo potente e non è giusto, questo mi è sembrato positivo. Altro non l'ho seguito per cui... L'importante è che sia un papa tra la gente. Eh, direi di sì, insomma. San Francesco era un poverello, no? Il fatto che abbia scelto quel nome anche... Dovrebbe essere... Bisognerà vedere le resistenze che potrà trovare. Ma la prima impressione è positiva, direi. Perché è una persona che vive con i poveri e quindi dovrebbe dare alla chiesa un indirizzo un po' diverso. Un gesuita che ha scelto il nome Francesco. Sì, e questo direi che per me è molto positivo perché ha scelto il nome di un santo che era un santo dei poveri, diciamo, no? Molto satisfatti, io sono croato, ma noi siamo molto satisfatti perché noi siamo cattolici e penso di questo è una scelta buona. Le piace questa figura? Sì, questa figura è come un angelo, bellissima, bellissima. Voltiamo pagina alla politica. Sta per chiudersi la partita della nuova giunta regionale col Totonomi a un passo dalla fine. Mancano ancora delle caselle da riempire sia da parte del PDL che della Lega Nord. C'è poi il caso di Paola Ferrari, conduttrice della domenica sportiva inserita nella squadra di governo dal PDL. La Lega non avrebbe gradito. I tempi però sono stretti. La chiusura è prevista a breve. Domani la lista definitiva degli assessori dovrà arrivare nelle mani del neogovernatore Maroni per la proclamazione della squadra che avverrà subito dopo quella del Presidente. Quella del Consiglio, invece, entro lunedì o al più tardi martedì. Dall'altra parte, invece, i consiglieri del PD e del Patto Civico con Ambrosoli si sono riuniti oggi per fare il punto sulle iniziative da intraprendere nell'attività di opposizione del nuovo Consiglio regionale. Paolo Pirova. Ascolto, partecipazione diffusa, intransigenza sui valori, rifiuto di tatticismi e cinismo, proposte concrete per risolvere le esigenze più urgenti di molte famiglie e di numerosi imprenditori messi in difficoltà dalla crisi sono i temi su cui oggi, al 14esimo piano del Pirellone, si sono confrontati i consiglieri regionali del centro-sinistra. Ci sono delle urgenze che non possono aspettare i tempi della formazione della Giunta Marone. Sono le urgenze che patiscono i cittadini lombardi, quelli che hanno perso il lavoro e che vedono la scadenza di provvedimenti come la Cassa Integrazione Inderoga che incombe sulle loro persone, come le imprese che si trovano in enorme difficoltà. Noi per questi due mondi abbiamo presentato delle proposte concrete e finanziabili per sostenere con il reddito di autonomia le esigenze dei cittadini che si trovano senza lavoro, per ridurre l'IRAP alle imprese in questo momento di particolari difficoltà ma in un percorso virtuoso di contrasto all'evasione fiscale. Intanto il gruppo consigliare Patto Civico con Ambrosoli ha scelto il suo capogruppo, sarà Lucia Castellano, già assessore comunale di Milano alla Casa. È una donna con una straordinaria esperienza anche come assessore alla Casa e al Demanio nel Comune di Milano è sensibile, molto sensibile verso le tematiche delle quali abbiamo parlato e sarà perfettamente in grado di guidare il gruppo con Ambrosoli Presidente per la migliore azione di opposizione. E abbiamo parlato di lavoro, lo ha fatto Ambrosoli poco fa, i dati drammatici relativi ai disoccupati e ai casse integrati in Lombardia sono stati anche al centro del dibattito di oggi a Milano al congresso della CISL del nuovo compressorio Milano-Legnano-Magenta. A domani è previsto anche l'intervento di Raffaele Bonani e l'elezione di Danilo Galvagna, la segreteria del nuovo comprensorio Alberto Carreras. Oltre 65.000 licenziati in Lombardia nel 2012 con un più 23,5% rispetto all'anno precedente, un trend che non sembra calare nemmeno nei primi mesi del 2013. Ben 224.000 i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e adesso i problemi legati alla mancanza di fondi per la cassa integrazione in deroga. Gli 87 milioni erogati dal Ministero del Lavoro non consentono nemmeno di arrivare a coprire il primo semestre di quest'anno. Sono tutti problemi drammatici rimbalzati oggi in occasione del primo congresso della CISL del nuovo comprensorio Milano-Legnano-Magenta. All'incontro ha preso parte anche il sindaco Giuliano Pisapia che ha parlato dei 350 milioni di euro che sono stati tagliati dallo Stato al Comune di Milano e dei 480 milioni di euro che Palazzo Marino invece ha dato allo Stato, soldi recuperati dal Limo pagata dai milanesi. Dalla CISL la consapevolezza del momento drammatico che stanno vivendo migliaia di famiglie lombarde. Penso che in queste ore la nostra sollecitazione sia quella attorno agli ammortizzatori sociali. Abbiamo assolutamente bisogno di una risposta diversa di quello che sta avvenendo avanti dal governo. Dovremo creare tutte le pressioni e tutte le azioni per invertire questa situazione. Domani a Milano sarà presente il segretario nazionale Raffaele Bonanni e Danilo Galvani verrà eletto segretario del nuovo comprensorio di Milano-Legnano-Magenta. Noi speriamo che non solo la politica ma questo nuovo sindacato che noi vogliamo rappresentare possa proporre dei modelli per uscire in maniera diversa. È apprezzabile il fatto che ci si possa impegnare dal punto di vista di trovare le risorse per la cassa integrazione. Dovrebbe essere molto più apprezzabile il fatto di impegnare regione, comune e istituzioni per trovare i soldi per dare lavoro alle persone. Non vogliamo più vedere il futuro che viviamo già oggi con lenti del passato. La cronaca crescono i truffatori professionisti capaci di confezionare 5 o 6 truffe al giorno mentre diminuiscono i furbi che improvvisano truffe maldestre. Lo dicono i vigili e gli agenti della polizia che però coordinati dalla procura della Repubblica di Milano hanno creato un pool che è riuscito a far scendere dai 489 procedimenti sulle truffe agli anziani in particolare del 2008 ai 140 d'inizio del 2013 con un calo netto del 70%. L'assessore alla sicurezza Marco Granelli invita però a non abbassare la guardia e dice denunciate il minimo sospetto. Di nuovo cronaca un presidio degli operai dell'ex Alfa di Arese al centro commerciale Iper di Piazza Accursio a Milano protestano perché vogliono essere ricollocati nelle nuove attività che apriranno sull'area. Vediamo. Una sessantina di operai di Nova Service e di altre aziende dove erano stati ricollocati i lavoratori dell'ex Alfa Romeo di Arese, ora rimasti disoccupati o in cassa integrazione hanno organizzato un presidio davanti al supermercato Iper Portello a Milano. Chiedono di essere ricollocati nelle nuove attività che apriranno sull'area dove secondo l'accordo di programma verrà costruito dal gruppo Fini per il più grande centro commerciale d'Europa. I lavoratori si lamentano perché sono iniziati i lavori e si fanno speculazioni miliardarie mentre i lavoratori dell'Alfa sono ancora senza stipendio e senza prospettive. I lavoratori di Nova Service, ex operai Fiat ricollocati nell'azienda che si occupa della manutenzione dell'area sono stati licenziati nel febbraio 2011 e da allora sono in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Renato Parimbelli, Slaicobas Alfa Romeo di Arese. Veniamo al Portello perché il proprietario dei tre quarti dell'Alfa Romeo di Arese è Brunelli e hanno appena firmato un accordo di programma in regione dove ci saranno 800 milioni di investimento e sbandierano 3.000 posti di lavoro. Ricordo a tutti che noi siamo 25 in mezzo che siamo in mezzo alla strada e di questi 3.000 posti di lavoro a noi non ce ne erano neanche uno perché usano le cooperative e attraverso l'agenzia Arif ci vogliono mandare via con quattro soldi e ci vogliono sparpagliare in giro per la Lombardia. E noi siamo qua a protestare perché il posto di lavoro noi ce l'abbiamo a differenza adesso purtroppo di tutti gli italiani che stanno prendendo il posto di lavoro perché non c'è lavoro. A Arese c'è il lavoro, tanto è vero che faranno 3.000 posti di lavoro per tutti meno che per noi. Agli operai dell'Alfa si sono uniti anche i lavoratori dei magazzini Ortofin i quali protestano perché a loro dire le cooperative che hanno gli appalti licenziano gli iscritti allo Slaicobas e assumono operai iscritti ad altri sindacati. Sono state presentate a Palazzo Marino le iniziative che si terranno in concomitanza con la domenica a spasso mezzi pubblici potenziati, musei e piscine aperti gratuitamente, auto e moto però ferme dalle 10 alle 18. Vediamo. Domenica prossima torna il blocco del traffico a Milano per la domenica a spasso voluta dalla giunta Pisapia. Auto e moto ferme dalle 10 alle 18, via libera invece ai veicoli elettrici, alle auto del car sharing e dei portatori di handicap e ai taxi. Tante le iniziative previste in città nonostante il ritorno del freddo e le previsioni che annunciano pioggia. Palazzo Marino si trasformerà in Palazzo Bambino con il cortile d'onore aperto a laboratori e animazione per i più piccoli. All'arena civica sarà inaugurata la Sala Piani dopo il restauro, mentre Ciclo Hobby organizzerà bicinfesta la pedalata per le strade della città da Via Dante a Rogoredo. Alcune sono repliche positive di iniziative testate l'anno scorso, l'apertura di Palazzo Marino dedicata ai bambini, quindi Palazzo Bambino, i musei civici gratuiti, le piscine gratuite, un tram che girerà per Milano dedicato ai bambini. Alcune invece sono nuove, quindi la grande biciclettata promossa da Ciclo Hobby e tutta una serie di iniziative sparse sul territorio che animeranno la città e che sono tutte consultabili sul sito. Per l'occasione i mezzi pubblici saranno potenziati e il biglietto ATM da 1,50 euro avrà validità giornaliera. Saranno inaugurate due nuove stazioni del bike sharing in piazza Leonardo Da Vinci e in via Boscovic. Anche i tifosi del Milan sono invitati ad utilizzare la bici. In concomitanza con la sfida del Meazza contro il Palermo verrà allestito un grande parcheggio temporaneo per le biciclette nei pressi dello stadio. Saranno comunque aperti al traffico i collegamenti tra le tangenziali e San Siro in modo da facilitare l'ingresso allo stadio dei tifosi rossoneri e palermitani provenienti dalla provincia di Milano. Sul sito internet comune.milano.it è possibile trovare tutte le informazioni utili sulla Domenica Spasso. Domenica Spasso che sarà come detto caratterizzata dal maltempo presunto ma quasi accertato e l'assessorato alle politiche sociali. Intanto rinnova da questa sera e per i prossimi giorni l'allerta dei servizi per i senza tetto e per le persone in difficoltà. Infatti visto che è previsto questo sensibile peggioramento delle condizioni meteo con temperature sotto lo zero di notte nelle prime ore del mattino nelle scorse settimane tra l'altro sono già state numerose le telefonate giunte al centro aiuto della stazione centrale per segnalare casi di senza tetto non ancora noti ai servizi del comune. L'amministrazione chiede comunque ai cittadini di continuare a collaborare con i numeri da contattare che sono lo 0288447645 oppure come finale 6 o 7. Attivi tutti i giorni dalle 8.30 alle 23. Ora qualche appuntamento per restare in nostra compagnia a partire da Nova Stadio. Sprint, versione sprint che seguirà la fine del primo tempo della partita dell'Inter che si gioca a San Siro dopo il Tg. Alle 20.30 griglia di partenza, i motori Nova Stadio di nuovo a commento a termine della partita alle 23 e per un'ora con gli amici della redazione sportiva. Il Tg della notte torna alla mezzanotte e termina qui l'edizione della sera. Ci vediamo tra poco invece per l'approfondimento di Borsa e Meteo. Grazie.